Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Morto il leggendario ex allenatore di football americano. E poi commentatore TV. John Madden. È morto il 28 dicembre in California all'età di 85 anni. Lo ha reso noto la National Football League, NFL, senza rivelare la causa del decesso. Secondo quanto riporta la BBC. Madden portò gli allora Oakland Raiders alla loro prima conquista del Super Bowl nel 1977 e divenne un popolarissimo commentatore e analista televisivo dopo il suo ritiro da allenatore quando aveva solo 42 anni. Successivamente. Divenne il volto del Madden NFL Football. Uno dei videogiochi sportivi di maggior successo nella storia degli Stati Uniti. Nessuno amava il football più di coach. Ha commentato in un comunicato il commissario della NFL. Roger Goodell. Non ci sarà mai un altro John Madden e saremo per sempre in debito con lui per tutto ciò che ha fatto per rendere il football e la NFL quello che è oggi. Madden allenò i Raiders per 10 stagioni. Maine vÖrre l'anima. Grazie. 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 Grazie.